Ciao ragazzi, voi conoscete la storia delle macchine e come sono le macchine oggi? Beh, in un video poi vi spiegherò la storia delle macchine, ma oggi vi farò vedere la top 5 auto più strane della storia, antiche e moderne. Numero 1, Citroen DS Palace, ha avuto diverse versioni, la prima è stata fatta nel 1967, è un'autovettura molto strana, ha due ruote coperte, il dietro non è un granché, ha il logo della Citroen e sotto ha i fanali, ha un tettuccio bianco e i fanali e la posizione della targa è davvero molto strano, Sembra una macchina degli anni 40, un'auto simile è la Citroen Ami del 1969, è detta anche una delle auto più belle realizzate dalla casa italiana Lamborghini, la Lamborghini Centenario è un'autovettura molto moderna, è di colore grigio metallizzato con delle strisce gialle adorabili. Come ogni Lamborghini il di dietro si vede il motore, sotto si trova il logo Lamborghini, i fanali e sotto delle strisce gialle. Sopra dentro le strisce gialle c'è scritto Centenario e il davanti è simile a tutte le Lamborghini, forse un po' simile alla Ferrari che vedremo sicuramente dopo. Numero 3 Ferrari, la Ferrari, è molto bella come Ferrari, un'autovettura prodotta dal 2013 al 2016, in due versioni, una Roadster e la seconda Cabriolet. Il muso è molto simile alla Lamborghini Centenario, ma finisce a punta, con lo stema Ferrari davanti e di lato come ogni Ferrari. Anche dietro come ogni Ferrari e Lamborghini si vede il motore e c'è anche il logo, con dei fanali tondi all'inizio e sotto il simbolo del cavallino lampante. La Ferrari Spider è quasi la stessa cosa, soltanto che non ha il tettuccio e come vedete ha gli specchietti diversi. Numero 4 Ferrari Testa Rossa Ci spostiamo negli anni 50, con le auto da corsa e quelle normali della Ferrari. Una di queste si chiama Ferrari Testa Rossa, è presente in due versioni, ma noi parliamo della prima versione. È Spider, come vedete, al numero 22, le strisce azzurre ed è tutta bianca. E la bandiera americana al posto del simbolo della Ferrari, la Ferrari Testa Rossa in versione normale, invece, è tutta rossa con il simbolo della Ferrari al posto della bandiera americana e in motori sporgenti come questa sportiva. I fanali sono tondissimi e si vedono persino le marmitte. La Ferrari Testa Rossa di seconda generazione è molto più piatta, come tutte le altre Ferrari. E vince il premio per le auto più belle e più diverse è questo Ferrari. Come vedete è molto diversa dalle altre Ferrari, non ha nemmeno il logo della Ferrari. Il dietro ha le marmitte e i fanali tondi. Il logo della Ferrari ma stavolta con sopra il cavallino rampante. Quest'auto assomiglia tantissimo all'Alfa Romeo Spider Duetto, è davvero molto simile. Davanti al logo Ferrari, l'interno è fatto di due sedili con il volante e il cambio, quindi ha solo due posti. E per finire questa Ferrari è degli anni 50. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, votate e commentate il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!